Arrivano misure drastiche anche all'interno dei comuni per evitare rischi contagio tra sindaco, assessori e consiglieri comunali. Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020, nelle misure adottate dal Decreto Legge numero 17, cosiddetto Cura Italia, è stato espressamente previsto che lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei comuni, quindi giunte e consigli comunali, debba avvenire in modalità interamente virtuale grazie a collegamenti in videoconferenza. Sarà compito del segretario comunale verificare la presenza a distanza e il corretto svolgimento della seduta. Una situazione di emergenza che giustifica misure straordinarie. Limitare al massimo i contatti vale per tutti. I comuni sono aperti per garantire i servizi essenziali, ma si riceve solo su appuntamento. Da oggi anche gli amministratori locali dovranno adeguarsi, non rinunciare ai loro doveri istituzionali, ma dovranno farlo a debita distanza. Anzi di più, solo in videoconferenza.